Una morte imparabile Una morte imparabile muore in campo uno dei più amati portieri indonesiani. Colpito da un compagno di squadra mentre gioca una partita di campionato, Shoiru Luda prima si dimena per il dolore, poi si acascia. Non si riprenderà più. Tragedia in un campo di calcio in Indonesia, dove il portiere del Persela, Shoiru Luda, è morto dopo un violento scontro avuto con un compagno di squadra e ripreso in diretta tv. Si stava giocando per Sela, Semen Padang, match della Superliga di Indonesia ospitato nello stadio Surajaya a Sidoregio, Lamongan, a est di Java, quando Uda è stato protagonista di un brutto incidente che gli è costato la vita. . Secondo quanto raccontato dal Mirror, il portiere 38enne era uscito per raccogliere la palla alla fine del primo tempo e proprio in quegli attimi si è registrata la collisione mortale. . Dal video che ora sta facendo il Giro del Mondo, si nota che il portiere esce dalla sua area per contendersi la palla con altri due giocatori. . Il suo compagno di squadra indossa la maglia azzurra, mentre il rivale quella rossa. Lo scontro sarebbe avvenuto proprio con il primo e dalle immagini si comprende come ad essere colpita sia stata la testa di Uda. . In un primo momento il portiere è rimasto apparentemente vigile, in ginocchio, tenendosi la mascella con una mano, poi però sarebbe crollato sul campo privo di sensi, tanto da richiedere l'intervento dei soccorritori. . L'addio del club, vera leggenda. . Shohiru Luda è stato dichiarato morto a circa un'ora dall'incidente in campo avvenuto in diretta tv, dopo essere stato trasportato d'urgenza all'ospedale Soe e Giri Lamongan. . In seguito allo scontro ed in attesa di conoscere quali fossero le condizioni di salute del portiere, la partita è proseguita, concludendosi con la vittoria del Persela per 2-0. . . A perdere però, è stato proprio il 38enne a causa del forte trauma al cranio ed al collo in seguito alla collisione con il compagno di squadra Rodrigues. . A confermare la notizia del decesso, al termine della partita, è stato anche l'allenatore del Persela, Ajay Santoso. . . Lo stesso ha riferito che dopo il match tutta la squadra si è recata in ospedale ma qui è stata annunciata la morte del portiere. . . La perdita di Shohiru Luda ha colti tutti noi molto duramente, ha aggiunto. . 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 Ciao